Ulteriore e importante regolamento approvato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Sernia, quello riguardante la gestione e l'uso dell'advitorium Unita d'Italia. Sono molto soddisfatto del lavoro che ha fatto la prima commissione, il Presidente Fabio Cefarogli, consiglieri sia di minoranza che di maggioranza, i loro delegati. È un regolamento fatto molto bene, gli aspetti fondamentali sono quelli della divisione degli spazi dei quali si potrà usufruire per gli eventi, le manifestazioni e soprattutto anche la definizione delle tariffe che vedono una sensibile diminuzione nel periodo invernale e arriva anche al 40%, nel periodo di sì anche molto di più. Inoltre importanti novità anche sul piano strutturale. Infatti grazie ad una serie di finanziamenti del valore complessivo di circa 15 milioni di euro, la struttura sarà completata per diventare ancora di più centro culturale della città di Isernia. Una serie di interventi, primo fra tutti quello del CIS, sono circa 10 milioni di euro che completano la struttura dal punto di vista delle opere idrauliche, meccaniche e quindi della fruibilità interna. Ci saranno degli spazi per poter insegnare musica qui al piano terra, 300 posti in più in platea per poter consentire di avere eventi ancora più grandi. Un museo emozionale al piano superiore. Verrà completato il tetto con un'impermeabilizzazione ma soprattutto con la possibilità di avere spettacoli all'aperto sul tetto dell'auditorium e oltre a questo sulla struttura a fianco, diciamo, l'edificio B ci sarà uno spazio di co-working dedicato anche all'alta formazione e quindi a dei corsi di formazione sia post-diploma che post-universitari. Nello spazio invece che era prima dedicato a quello che doveva essere un cinema e un finanziamento PNRR ci permette di realizzare il cosiddetto Smart Lab che è un centro di formazione sulle arti digitali, quindi video, foto e audio dove abbiamo anche la possibilità per due anni di gestire i servizi di formazione dei ragazzi con 200.000 euro dedicati proprio ad aiutare la formazione in queste arti.